di essere qui perché approdo in una grande piazza e sono felice di questo, ora l'importante è rimanere comunque concentrati su quello che bisogna fare, in questo momento è dare il massimo per quello che ci chiede il mister, l'aspetto atletico, quindi in questo momento sono concentrato su questo. Io anche quest'anno a San Benedetto ho praticamente giocato sempre da esterno in attacco a tre, sia a destra che a sinistra, non ho una particolare preferenza, sono riuscito a interpretare il ruolo sia a destra che a sinistra, si sa che la sua preparazione è abbastanza faticosa, però credo che l'importante sia affrontarla al massimo dal punto di vista mentale, cioè essere consapevoli che poi tutto quello che si fa qui lo si ritrova poi durante l'anno. Non penso assolutamente a prendere l'eredità di nessuno, sono concentrato su quello che sono io, anche perché credo rispetto a lui di avere anche caratteristiche diverse, quindi il mio obiettivo è quello di cercare di fare il massimo in tutte quelle che sono le situazioni di campo, quindi lavorerò sempre per migliorarmi, poi l'importante credo sia dare il massimo in tutto, poi quello che si raccoglie credo sia solo il frutto di quello che si fa prima. La trattativa è stata abbastanza veloce, credo molto veloce, la situazione si è risolta verso marzo, verso fine campionato comunque, sono salite anche squadre molto blasonate che sicuramente faranno delle squadre importanti, quindi sarà un campionato sicuramente difficile, lo si sa, la Serie B è così, però come ho detto prima, Pescara merita di stare nelle primissime posizioni.